L'attesa sta per terminare, si torna in campo dopo interminabili giorni di lavoro per le squadre e con i tifosi che non vedono l'ora di riempire i gradoni dello Stadio San Francesco per l'andata delle semifinali play-off. Noceolina e Latina si ritroveranno di fronte dopo una stagione in cui hanno ottenuto risultati altalenanti. Vicina alla promozione diretta, la compagine Pontina rimonta ma tardiva. Per i molossi che non sono riusciti nell'impresa ad agguantare la promozione diretta. Mister Auteri ha nascosto la formazione antilatina con allenamenti a porte chiuse e con poche notizie trapelate sul conto del modulo tattico che intende adottare. Di sicuro si sta lavorando anche sotto l'aspetto psicologico. La squadra è carica, lo dimostrano le parole di Desiderio Garufo, terzino d'attacco della nocerina che ieri è stato più che esplicito in conferenza stampa. Noi, a prescindere dalla posizione che ben se ne dica, ho terzo o quarto posto, tu in casa dovevi giocare per forza per fare un risultato positivo. Sicuramente vincere ti darà qualcosa in più, ma alla fine sono partite che vengono giocate in 180 minuti. Quindi noi cercheremo di sfruttare il fattore campo, come del resto faranno tutte le squadre che giocano la prima in casa. Poi aver perso quella possibilità di essere al terzo posto alla fine non ci sta pesando più di tanto perché sappiamo quali sono le nostre caratteristiche e il tipo di partita che dobbiamo fare. In casa paganese si pensa al futuro, la scelta dell'allenatore innanzitutto. Il presidente Tapani sta valutando varie opportunità, ma non sembra convinto del tutto in questo momento post chiusura della stagione. Dopo la salvezza conquistata senza particolari intoppi, il patron vuole capire con gli altri dirigenti quali possano essere i programmi dell'immediato futuro. La scelta pare essere stata fatta mix di giovani ed esperti con un trainer di riferimento che sia già conoscitore della categoria. Per questo Rogazzo avrebbe meno possibilità rispetto a Cari o Novelli. Possibile anche la soluzione interna con un calciatore dei senior dell'anno appena concluso che potrebbe essere promosso allenatore. Intanto la paganese cercherà di monetizzare al massimo per il gioiellino caturano richiesto da molti club. Grazie a tutti.